Amara sorpresa questa mattina per gli operai della cooperativa Lavoro e Non Solo che hanno trovato la Mietitrebbia vittima di un furto. Sì, stammattina siamo arrivati per fare uno spostamento alla Mietitrebbia perché in due giorni abbiamo finito il lavoro che c'era qua, abbiamo fatto la Mietitura alle Fave e la Mietitura al Riano. Stammattina ci dovevamo spostare verso Valle Lunga, siamo arrivati qua, abbiamo visto già entrando dal cancello c'era olio per terra, abbiamo sospettato che quando abbiamo parcheggiato si è scoppiato qualche tubo, poi siamo avvicinati e abbiamo visto che mancava tutto il gruppo che fa funzionare la macchina, tutto il gruppo idraulico. Il mezzo era parcheggiato qui fuori? Sì, il mezzo era parcheggiato qua fuori, però non penso che la gente ci interessa smontare dei pezzi, però penso che al nostro territorio noi siamo di Corleone e fino ad oggi mai nessuno si è lamentato che gli è mancato mai un pezzo di qualcosa. Ma quello che ho capito stamattina, questi qua sul territorio di Canicattì sono dei territori che i furti ci sono. Però sicuramente questo è un furto, non di un ladro, diciamo così, di un qualche personaggio che avrà la stessa macchina che lo va a rimontare nella sua macchina. A quanto ammonta il danno, signor Ferrara? Ma guarda, aspettiamo dei preventivi, però capisco che sarà su 3.000 euro il pezzo che si è smontato. Potremmo essere pure di più, perché è un gruppo che fa funzionare tutta la macchina, un gruppo idraulico che costa. Se la mente non mi inganna, sempre qui diversi anni fa però hanno danneggiato il portone di ingresso in ferro del Capannone. Sì, anche negli anni passati abbiamo subito, hanno rotto il portone, sono rubati dei tubi dentro, dei furti li abbiamo subiti. Però non lo so, noi pensiamo che è sempre un anno, pensiamo che la gente può cambiare pure, però fino ad oggi abbiamo capito che la gente non cambia. Vuole vivere sempre rubando e facendo del male. Io penso che, come siamo noi che alla fine lavoriamo onestamente, detto in siciliana, a buscare un upano, travagliano, Io penso anche che questi personaggi, secondo me, hanno il diritto, diciamo, a buscare il suo pane che si nasce a vadiare e non rubare le cose.